È il momento del gioco, bambini. Stasera facciamo vecchio stile. Sette minuti in paradiso. Chi prova per primo l'armadio dell'amore? Il mio voto è una A per Arci. Chi mi asseconda? Veramente io? Sì, Endrios, sì! Ok, in cerchio, ragazze. Vediamo chi cavalcherà lo stallone rosso stasera. Oh no, dai! Punta chiaramente verso la nuova venuta. Sarà divertente. No, io non ci sto. Come preferisci. Ma se dici di no, la regola vuole che la padrona di casa prenda il tuo posto. So che suo fratello è morto e tutto, ma... Cheryl Blossom è davvero l'anticristo. Allora ti manca... Ti manca New York? È passata solo una settimana. Ma... Ma... Sì. Sei minuti e venti secondi. Ok, tocca a te. Fammi una profonda domanda per ammazzare il tempo. Avevate l'aria, tu e Betty, di divertirvi al ballo? Sì, certo. Siamo amici da sempre. Tocca a me. Prima la mia domanda. Ed è... Tutto qui, solo amici? Non solo amici, i migliori amici. Tocca a me. Hai un ragazzo a New York? No. Tocca a me. E c'è la possibilità che diventi qualcosa di più. Lo stai chiedendo per Betty o per te? Per Betty. E non hai risposto alla domanda. Non ho mai sentito... Quello che si dovrebbe sentire in questi casi. Con Betty. E l'hai mai sentito... Con qualcuno? Sì. Quest'estate. E tu? Penso una volta. Sei più pericoloso di quello che sembri, vero? Ragazzo della porta accanto. Non sai quanto. Tocca a te. Chiedimi qualcosa, Archie. Chiedimi tutto quello che vuoi. Non dovremmo farlo? No, non dovremmo. Centro. Sì. Dov'è Betty? Ha spiegato le ali. Detto tra noi è più emotiva di quello che sembra. Stronza puttana. Il cellulare è spento. Prendo un taxi. Posso venire con te? Dovremmo provare a cercarla. Credimi. L'ultima cosa che Betty vorrebbe è che la cercassimo insieme. Abbiamo sbagliato. No. Grazie a tutti.